Guarda, abbiamo scelto la stessa borsa proprio perché troviamo che questa sia una borsa comoda per ogni occasione, che va benissimo insomma di giorno e anche di sera. Abbiamo giusto cambiato il colore ma abbiamo pensato... Beh, di tutto, quindi, vedi, questa è grandissima, spaziosa. Possiamo spiare? Guarda, stasera stranamente non ho tante cose dentro, le chiavi, il telefono, le carte, il cellulare, basta, però io la trovo fantastica, vedi, ha la calamitina, blu-oro e questo ghiaccio sono colori top, sempre perfetti. Del mio devo dire che è un vestitino nero, un tubino nero, un tubino nero, universale, perfetto, sempre.